Un'estate diversa aspetta ai turisti che vogliono vivere l'esperienza del Monte Purito. La seggiovia è chiusa e sarà chiusa per parecchi mesi almeno. Cosa è successo? Ma niente, la seggiovia è arrivata a scadenza naturale del nulla ossa ministeriale, quindi ha necessità della revisione generale che è normata. Per il momento non si sono ancora trovati i fondi, la seggiovia di proprietà di Amia Servizi, che è una società partecipata al Comune. Abbiamo partecipato a un primo bando nel settembre del 2023, da cui si è stati esclusi, sembra per poco. Adesso sembra che a breve ci sarà un nuovo bando simile a quello e quindi Amia Servizi, con la nostra consulenza, parteciperà e speriamo di ricevere questo contributo e ci permetterà di fare la revisione generale. Ma la nostra proposta è un pochino più ambiziosa perché è quella di migliorare un po' anche la seggiovia e ammodernarla. Come si raggiunge il Monte Purito? All'estate è sicuramente chiusa. Stiamo lavorando per aprire a Natale. Il Monte Purito si raggiunge a piedi. Stiamo studiando delle soluzioni che non sarà una navetta, mi piace dirlo perché non ci sarà nessuna navetta che porta al Monte Purito. Vorremmo invece creare delle aree di sosta per chi ci va a piedi, dove può fermarsi un attimo e può godersi la natura. Abbiamo anche proposto al Comune di terminare il pezzo di strada mancante nel sottobosco in modo di permettere anche ai passeggini di arrivare in maniera quasi agevole e alla fine arrivare al Monte Purito necessita di 20 minuti di camminata. Quindi è possibile quasi per tutti. Con queste aree di sosta vorremmo far vivere un po' più la natura, faremo dei recinti degli animali più vicini alle persone proprio per far godere in maniera diversa in attesa della seggiovia questo Monte Purito. In Veta c'è un bellissimo parco avventura che ogni anno viene ampliato e viene mantenuto. C'è il percorso sensoriale che permette di avere un'esperienza diversa al Monte Purito, di visitare il Monte Purito, di visitare la cima. E poi il nostro cavallo di battaglia è sempre il rifugio dove vogliamo far sentire i nostri ospiti in un ambiente proprio di montagna con i piatti tipici bergamaschi. Non solo il Monte Purito ma anche il palazzetto ha riaperto con la vostra gestione. Di che offerta date per la prossima estate? Ma a dire il vero il palazzetto era nostro fino al 2019, poi abbiamo perso il bando e adesso ci siamo riaggiudicati il bando. Noi al palazzetto avevamo fatto un grande lavoro, un grosso lavoro perché avevamo reso operativi i campi da tennis che non erano operativi. Avevamo iniziato a organizzare i campi estivi che permettevano anche agli alberghi di avere dei bambini e dei ragazzi per tutto il mese di giugno e per metà del mese di luglio. Abbiamo ricominciato subito dopo l'aggiudicazione a lavorare in questo senso, quindi il palazzetto verrà rivalorizzato da parte delle società esterne e soprattutto la cosa importante è che il campo da tennis noi avevamo 150 atleti di Servino quindi aveva anche un aspetto sociale veramente importante, cosa che si è persa e naturalmente è nostra intenzione riportare corsi per bambini, corsi per adulti e vorremmo anche aggiungere qualche nuova attività un po' per tutti per creare un'alternativa anche per chi desidera fare sport diversi.